Musica Mercatini di Natale al Museo di Petrarza Spettacoli, artigianato di qualità Sapori delle eccellenze campane Tutto è pronto per la prima edizione di Mercatini di Natale a Napoli 2018 Oggi, domenica, al nastro di partenza, si aprono i cancelli Basta girare per i viali dell'antico opificio Per incontrare archipugieri, trombolieri, senatore Dalle 17 in poi sono previste sfilate e balli in costume dell'Ottocento E a seguire l'accensione delle luci nel Giardino Incantato La manifestazione è patrocinata dal Consiglio regionale della Campania E dei comuni di Napoli e Portici Nella suggestiva cornice dei viali del museo Gestito dalla Fondazione Ferrovie dello Stato Italiano Troveranno spazio spettacoli e musical, artigianato di qualità Sapori, profumi dell'area food Con la presenza dei principali produttori di eccellenze Dell'Eno Gastronomia Campana Tra gli altri, Poppella, Zia Esterina, Sorbillo, Scaturchio, Bifulco E Apicultura Vesuvio Ben nota sul territorio vesuviano Per la grande qualità e genuinità dei suoi prodotti Le vendite bene L'affluenza è tanta E siamo molto contenti dell'organizzazione E tutto bellissimo La parola d'ordine sarà divertimento nel segno della magia La parola d'ordine sarà divertimento nel segno della magia La parola d'ordine sarà divertimento nel segno della magia